il dispositivo della webcam consente di risparmiare molto tempo non ho più da elaborare film li prendo così come sono e pace e questo mi consente anche di dare delle risposte mentre io leggo le domande qui sullo schermo mi scrive Umberto Cordoni scusa Romano se mi permetto ma ci potresti parlare della coscienza cristica universale dato che il Signore ha detto io vado a preparare questo ma tornerò con le mie legioni e ci sarà la mietitura ma molti saranno condannati e pochi gli eletti ma chi dice non chi dice Signore Signore ma chi fa la volontà del Padre mio ecco caro Umberto io io innanzitutto devo inquadrare esattamente la funzione espressa da Gesù in relazione al disegno paterno il Padre e Spirito Santo è chi determina il piano generale è un po' come chi volendo realizzare una serie di incontri per fare un campionato fissa le regole determina le squadre mette in atto delle vittorie e delle sconfitte le partite tutto il campionato e all'interno di questa opera poi ci sarà chi vince chi perde questo è il mondo reale come lo realizza il Signore attraverso le possibilità offerte dal sistema numerico i numeri hanno delle virtù delle caratteristiche loro proprie il ciclo dei numeri per esempio è proprio come dice la parola ciclo qualcosa che comincia fa tutto un suo giro un suo circolo di esperienza e poi ritorna a capo e si chiude come tutti i cicli si divide in una generale apertura e in una chiusura che accade per un verso contrapposto attraverso questo sistema del ciclo è possibile aprirlo in che modo ecco io cerco di dimostrarti un modo attendibile ecco immaginati che questo sia il ciclo fatto delle due parti immaginati che il ciclo sia orario cominci da qui e vada da qui io intanto lo vedo orario voi vedendolo a rovescio di come lo vedo io leggete anti orario il movimento che faccio io quindi già immediatamente si attua una visione complessiva che è vera solo se si considerano i due versi con cui un fenomeno è descritto ma lasciamo perdere questo dettaglio abbiamo il percorso da qui a qui ed è l'apertura poi ci sarebbe quest'altro che è la chiusura del circolo ecco vedere quello che è opposto in modo opposto alla chiusura significa aprire anche la seconda fase in che modo si apre così e cosa succede che quello che era un ciclo chiuso si presenta come un ciclo aperto in cui l'inizio e la fine non appaiono esistere come sono veramente ossia nello stesso punto ma come un cammino fatto in un complesso di alto e basso simile all'onda ecco quando noi vediamo realmente un'onda e perché stiamo vedendo la fase opposta all'apertura la chiusura che sarebbe un no rispetto all'apertura il no lo stiamo vedendo con un no e anziché chiusura c'è una nuova apertura però stavolta non fatta in relazione all'alto ma in relazione al basso e i due valori alto e basso che sono contrapposti in due modi uno perché va da qua qua e l'altro perché in giù e va di qua perde una delle due contrapposizioni e resta aperto però è chiaro che questo è un ciclo intero di un'onda che comincia in un punto e termina nell'altro che sono visti in maniera spostata ma che in realtà sono nello stesso modo in cui esistono quindi un ciclo che riguarda i numeri è fatto di un alto e un basso l'alto lo possiamo immaginare come partire da zero e finire fino qui con l'avanzamento di uno l'altro lo possiamo immaginare come cominciare da qui e andare indietro di uno più uno e meno uno determinano l'onda e una sarà l'immagine in alto l'altra sarà l'immagine in basso quindi abbiamo due modi contrapposti che determinano il ciclo ora le contrapposizioni noi le possiamo fare in due modi separati abbiamo visto l'inizio e la fine ecco partendo dall'inizio e andando fino a metà abbiamo l'alto facendo il rovescio partendo dalla fine e andando a metà abbiamo il basso però in questa maniera noi cambiamo le carte in tavola partiamo prima da un termine e andiamo in avanti poi partiamo dall'altro termine e torniamo indietro noi non possiamo vedere andare avanti e indietro perché noi quando facciamo quest'opera qui mettiamo tutto in avanti quindi dobbiamo contarlo tutto in avanti e in che modo è possibile contare tutto in avanti qualcosa avvalendoci degli indici ossia più uno e meno uno che sono i due opposti devono essere posti come indici di una base tanto che la base n elevata a più uno sia n quando è elevata al suo inverso ossia a meno uno allora appare come un ennesimo e n su uno e uno su n sono i due opposti ogni numero ha i suoi due opposti per esempio il numero uno che opposti ha 1 diviso 1 e 1 per 1 perché la relazione tra 2 1 può essere nelle due forme opposte della divisione e dell'opposto della divisione che è il prodotto di conseguenza quando noi mettiamo in sequenza le due cose abbiamo 1 su 1 più 1 per 1 il risultato di ciascuna di queste due operazioni è sempre U quando abbiamo il numero 1 per cui il ciclo il ciclo dell'uno è il ciclo dell'uno è il 2 il ciclo del 2 com'è? 2 diviso 2 più 2 per 2 ed è 5 ogni numero ha il suo ciclo gli altri numeri non c'entrano niente con il ciclo di ogni numero il ciclo del 3 3 diviso 3 più 3 per 3 ossia 1 più 9 1 più 9 è 10 quindi il ciclo di ciò che è tridimensionale come lo spazio è 10 allora se noi vogliamo raccontare le cose in modo esatto e ciclico lo spazio che ha tre dimensioni lo possiamo soltanto conoscere grazie al ciclo 10 ecco 10 rappresenta il ciclo spaziale che è poi il combinato tra il ciclo dell'uno che è 2 e il ciclo del 2 che è 5 infatti combinando il 2 con il 5 attraverso 2 per 5 abbiamo 10 che è il ciclo del 3 e quindi abbiamo che la sintesi delle tre dimensioni fondamentali quella della linea tempo quella dell'area e quella della tre dimensione tridimensione dello spazio è sempre 10 quando moltiplichiamo area per linea il ciclo dell'area è 5 il ciclo della linea è 2 e 2 per 5 fa 10 quindi quando noi vogliamo creare tutto questo disegno dobbiamo partire dal ciclo 10 che è quello della dimensione 3 dello spazio e dividerlo per che cosa tutto il movimento unitario che esiste nel ciclo 10 se 10 sono 10 unità una unità di di quanto si muove nel ciclo 10 delle altre 9 posizioni che può occupare una dopo l'altra in linea quindi tutto il movimento di uno reale che sta nel ciclo che è il 10 è dato da 9 spostamenti e che cosa succede quando noi prendiamo 10 che è il valore indice di ogni cosa e lo dividiamo per 9 che è tutto lo spostamento abbiamo l'universo infinito nello spazio e nel tempo decimo perché 10 diviso per 9 determina un infinito modo di porsi in un infinito tempo decimale in cui noi si possa vedere tutto nella profondità del calcolo temporale ma mentre questo accade nella profondità del calcolo temporale noi abbiamo diviso questo non togliendo di mezzo qualcosa ma semplicemente attraverso un'operazione quella classica del dividi e ordina perché cosa stiamo dividendo il 10 per il 9 e 9 che cos'è è un'area 3 per 3 quindi nel primo attimo della prima divisione mentre abbiamo come risultato diviso 1 ne abbiamo 9 che sono stati divisi in 1 per cui il 10 è stato diviso in 9 unità ognuna riguarda un'area 1 per 1 all'interno di quell'area 3 per 3 che sono 9 aree e ciascuna di quelle 9 aree si è preso un 1 abbiamo come resto ancora un 1 che non è stato diviso a questo punto procedendo nel calcolo noi non dividiamo più per 9 il 10 ma il suo decimo che è 1 e avremo 0,9 no 0,1 saremo con uno 0,1 che riguarda ogni unità in cui il piano oramai è divisa ma quante sono non sono più 9 perché quando andiamo a operare il secondo tempo della divisione noi ci stiamo occupando solo di ciò che accade in un'area 1 per 1 e è lì che stiamo dividendo quel valore quindi in sostanza mentre nel secondo tempo abbiamo ottenuto 11 decimi il fronte non è più 3 per 3 ma in decimi è 30 33 per 33 insomma è 3 non solo nelle unità ma anche nei decimi e quando siamo al terzo tempo otteniamo 111 centesimi divisi e il fronte è 333 centesimi di lato capite che l'area data da 33 per 33 e non è più 9 perché 33 più 33 comincia ad essere un numero piuttosto complicato 333 per 333 è sempre più complicato quando si vanno intrecciare le cifre ma si ottiene una cosa a un certo punto che i valori si stabilizzano nell'area perché l'incremento che accade attimo dopo attimo fa sì che già al quarto momento della divisione noi abbiamo avuto un incremento dell'ultimo tempo di divisione che praticamente ha determinato un valore 100 esatto di un fronte intero dato da 10 per 10 virgola poi c'è un 180 e tanti altri numeri affiancati che crescono di 81 ogni volta rispetto all'ultimo incremento quindi quel 180 se lo vogliamo definire dobbiamo aggiungergli un 81 e 180 più 81 diventa 261 e vedete che a 180 si aggiunge 261 poi si aggiunge un'altra terna data dal 261 più 81 e otteniamo un'altra terna alla quale si aggiunge un altro 81 e otteniamo la terna che è dettagliata ancora a lato insomma abbiamo un passo che è determinato sulla base di 3 la famosa c2 di Albert Einstein non 2 ma 4 perché c3 elevato a 4 è 81 e 81 si rivela proprio il valore incrementale che definisce di volta in volta sempre più nel dettaglio del piccolo la misura del fronte questi valori rimangono fissi quando noi ci occupiamo non dell'intervallo tra il quarto tempo e il terzo ma tra il quinto e il quarto e quindi cresce di una fase di tempo questi valori cominciano a separarsi perché si introduce uno zero a separare questi gruppi di tre e se noi abbiamo per esempio il ventunesimo tempo rispetto al ventesimo avremo introdotto una serie di 18 zeri di separazione circa adesso posso anche sbagliare nel calcolo ma di separazione tra quel fondamentale 180 più tutti questi zeri più il 261 più tutti questi zeri eccetera insomma quando noi si vada a osservare soltanto il fronte il tempo a mano a mano che è definito determina un piano diverso diverso che succede quando voi vedete un piano dopo l'altro in sequenza succede una sorta di cartone animato vedete una scena che si movimenta vedete un frattale il frattale è quello che c'era sui computer una volta tutti quei valori che si intrecciavano e si combinavano ed è determinato in un modo preciso si aggiunge un decimo di dettaglio a ogni calcolo e a mano a mano che questo decimo è introdotto la immagine si allarga e una parte esce fuori dallo schermo e abbiamo l'impressione di una visione di una specie di big bang perché andiamo sempre in fondo e vediamo che da quel fondo esce un 10% un nono ogni volta ecco noi nel nostro disegno stiamo vedendo una dinamica così simile al frattale e abbiamo ottenuto che il creatore sfruttando proprio le qualità precipue dei numeri riesce a determinare qualcosa che non è dipendente in un certo senso dal creatore e dalle sue voglie ma è vincolato alle determinazioni matematiche insomma il creatore determina un mondo retto dalla matematica che come vi ho detto ha i suoi cicli che con il valore divino non c'entrano è grazie a questo che il signore riesce a creare un mondo che apparentemente vada per conto suo ma apparentemente perché il signore quando adotta proprio il 10 per determinare questo valore lo ha fatto cum granosalis ossia proprio valutando quali sono i cicli del numero 1, del numero 2, del numero 3 il ciclo fondamentale è il 10 e poggiandosi su questo ciclo fondamentale riesce a ottenere un sistema infinito possibilistico ossia di possibilità per cui a mano a mano che il conto procede ci si addentra in un universo sempre più preciso sempre più ridotto ai minimi termini noi possiamo immaginare che quello che state vedendo adesso lo vedremmo se avessimo un calcolatore in grado di fare tutti i calcoli che sono in atto procedendo questa divisione fino al tempo necessario per ottenere e avremmo proprio a un certo punto di questo calcolo i numeri che sono visualizzati come quello che state vedendo che è determinato rigidamente dal calcolo e la molla per attuare il calcolo sta proprio nel calcolo la forza che determina la natura sta proprio nel calcolo ecco determinato questo campo da parte del creatore ecco il figlio chi è che cosa fa che scopo ha quello di esprimere in questo campo di battaglia tra gli opposti come il bene e il male e tutti i tipi di opposti qual è il valore ideale e quando questo figlio in apparenza vince che cosa si vede un disegno che procede nel modo idealizzato dal figlio ecco il successo visto dal figlio è inserito nel disegno ma tutto ciò che è dentro un disegno è vincolato dal disegno allora quando veramente l'animo umano si libera come Gesù voleva che si liberasse quando ogni spirito si libera del gioco cui è sottoposto da un disegno immodificabile quando Gesù stava per morire disse padre se possibile togli da me questo calice ma sia fatta la tua volontà non la mia il figlio è convinto che il signore che procede in questo modo è un signore di giustizia perché il figlio sa che questo mondo realizzato è ottenuto attraverso un calcolo perfetto a noi sembra un mondo imperfetto invece esiste proprio un calcolo in atto che è perfetto però come tutti i calcoli che devono essere completati sono perfetti solo alla fine del calcolo perché fino a quando io che devo risolvere un problema con un calcolo non ho fatto tutto il calcolo che porta alla soluzione del problema ma solo una parte io non ho risolto ancora il problema sono lì nel cammino ecco e quando il figlio veramente vince proprio per come tu caro amico me lo hai rappresentato proprio nel modo con il quale Gesù lo ha detto e il modo è questo tornerò con le mie legioni e ci sarà la mietitura ma molti saranno condannati e pochi gli eletti in quale contesto il contesto reale della realtà di questo gioco perché la realtà di questo gioco essendo una realtà umana segue solo un verso solo uno dei due quello in cui è fatto il disegno perché il disegno è fatto in avanti attraverso il procedere in avanti del calcolo 10 diviso 9 e poi si avanza di decimo in decimo ecco in questo modo è fatto il disegno quando noi lo vediamo lo vediamo per come è fatto ma non lo stiamo facendo noi è un calcolo che lo realizza questo disegno ma questo calcolo è finalizzato a una vittoria che emblematicamente è rappresentata in questo modo qui di un Cristo che torna con tutto il potere delle cose che ha detto con le sue legioni e ci saranno coloro che avranno vinto che sono pochissimi e molti invece che perderanno allora a questo punto immediatamente voi potreste dire ma come il Signore ha fatto una cosa in cui c'è chi vince e c'è chi perde come succede in tutti i campionati c'è una squadra sola che vince c'è un giocatore solo che vince sabato domani o dopo domani non so più c'era Milano Sanremo ma è uno solo che vince tutto il gioco il gioco fatto per ottenere qualcosa di strabiliante si fa quando c'è una grande quantità di possibilità e uno solo si becca il premio totale ogni gioco è regolato da questa vittoria perché se non ci fosse questo tizio qui che si impone e praticamente sbanca tutti gli altri crolla lo stesso ideale del gioco super enalotto ci sono 61 milioni in ballo domani ma se vincessero tutti avrebbero perso tutti perché su ogni giocata non gli sarebbe neanche restituita la giocata ma la giocata meno tutte le trattenute che ha fatto lo Stato e di conseguenza che scopo ci sarebbe più nel creare un gioco così Dio vuole creare un gioco in cui uno solo vinca ossia quando abbiamo alla fine che ci siano i vincitori pochi pochi siano gli eletti a vincere e molti invece apparentemente non ce la fanno ecco fino a questo punto qui noi siamo dentro la vittoria nel segno non del Cristo vedate bene ma di una prima fase soltanto dell'opera del Cristo perché se veramente il Cristo puntasse su farvi vincere questo mondo ossia farvi guadagnare tutti i soldi possibili farvi diventare ricchi farvi diventare prevalenti su ogni cosa ecco se fosse questo allora direste e tutti gli altri che fine fanno ecco Gesù non idealizza questo vincitore ma tutti gli altri e dice che i veri vincitori non sono quello che vince ma tutti gli altri che hanno perso ecco quando finalmente entra in atto la vittoria portata da Cristo ecco la vittoria che sembra essere legata a pochi eletti ecco è ottenuta attraverso una elezione che è l'opposto dell'elezione di tutto ciò che sembra beatitudine nel mondo reale e Gesù lo disse i veri beati sono coloro che sono poveri poveri di spirito poveri di tutto sono costretti da coloro che si approfittano a stare in basso ma è meglio che voi stiate in basso dovete idealizzare questa condizione di mandare avanti tutti gli altri e dire no io rinuncio al mio bene per te prenditolo tu il bene di questo mondo io rinuncio io sacrifico il bene mio affinché il bene sia tuo ecco costui è il vittorioso ma a questo punto anche all'interno di questa vittoria cari amici in questo mondo reale quanti veramente vincono e noi ogni volta che accade che qualcuno più o meno si avvicina a questa vittoria noi cristiani intentiamo una causa di beatificazione per farlo santo quanti sono coloro che poi sono dichiarati santi sono quei pochi eletti a santità e anche in questo disegno sempre nell'avanzamento del disegno vedete c'è chi ha tenuto conto della verità della forza di Cristo e ha idealizzato il servizio per il bene del prossimo e c'è chi non lo ha fatto il vincitore in questa partita è un soggetto simile non so a madre Teresa di Calcutta a tanti altri che si sono sacrificati per amore del prossimo ecco questi pochi qui sono pochi eletti ecco ma qui e questo è il disegno del figlio finalizzato alla vittoria in questo mondo perché dopo accade che entra in atto la verità su cui si basava il criterio del figlio che tutto veramente si capovolge tanto che i veri beati infine sono coloro che oggi sono stati in basso perché in un rovesciamento totale dei valori saranno coloro che sono in basso oggi a essere in alto e si determina un altro squilibrio stavolta tutti vanno a stare come quei grandi perché non è stato necessario che realmente si siano voluti sacrificare per il bene del prossimo anche coloro che non lo hanno fatto volontariamente perché sono stati poveri sono stati maltrattati sono stati così sottomessi sono portati a essere in alto sarebbe uno squilibrio contrapposto ecco a questo punto entra in atto la legge quale legge quella che in bibbia è descritta nel capitolo che sarebbe il numero 114 della bibbia ma che poiché non c'è un libro che ha 114 capitoli perché dopo i primi 50 capitoli si passa a un altro libro che comincia a contare i capitoli nuovamente da uno e poi c'è il terzo libro che azzera un'altra volta il conteggio e i capitoli cominciano un'altra volta da uno se noi togliamo di mezzo questi raggruppamenti dati dai libri e vediamo solo il testo nudo e crudo dei vari capitoli che si mettono uno sull'altro il capitolo 114 di bibbia è simile al libro corano che ha 114 capitoli esatti il corano è la legge il capitolo 114 di bibbia è la legge la stessa legge dell'occhio per occhio dente per dente che sembra una legge che sotto il profilo divino non è accettabile come una legge valida buona perché è in questa legge c'è scritto chiunque offenderà il signore sia messo a morte se uno ti cava un occhio tu lo caverai a lui tutto quello che tu farai ti sarà reso e la lezione appare nell'ottica punitiva di questo mondo che invece è un'ottica che non ha nessuna punizione questo mondo reale è simile a uno scontro che sembra mortale sembra cruento ma nel quale non c'è proprio nessuno che muore le nostre partite per esempio di calcio noi le abbiamo rese non certo cruente la squadra che sconfitta non muore ma una volta nell'arena quando c'erano due contendenti che si sfidavano e si sfidavano proprio ed era una questione di vita e di morte il signore la sua partita che sembra essere mortale è all'interno di un qualcosa che mortale assolutamente non è la vita è immortale ma il signore la fa apparire mortale per dare un limite a quest'inferno reale che abbiamo oggi che è una visione a rovescio della salvezza che Dio dà a tutti questa è la verità che Dio salva tutti in che modo? proprio attraverso il far ricadere su ognuno che fa le opere che ha fatto ricaderle non in quel termine punitivo che sembra ottenuto dalla legge ebraica dell'occhio per occhio perché quando le due contrapposizioni riguardano il fare una sta nel fare l'altra che è l'opposto del fare non è un fare all'altro è un disfare le cose cattive che hai fatto è un fare tornare tutto al principio in cui tu non avevi fatto niente è un annullare il potere del mondo il potere della vita del mondo è togliere in mezzo proprio la crudeltà di questo gioco ecco cari amici la fase che viene e che soddisfa totalmente le necessità imposte da Gesù stanno proprio nell'intervento del padre che fa rientrare la stessa opera di Gesù in un'opera vittoriosa perché se noi avessimo un qualcosa che si fa e si disfa e dopo rimaniamo con niente che cosa abbiamo fatto ma vedete quando noi abbiamo fatto una bella vittoria e abbiamo vinto ed è stato tolto di mezzo l'aspetto crudele della vittoria resta vittoria di Gesù Cristo sono legioni di Gesù Cristo che sono venute realmente nel mondo reale e laddove tutti hanno fatto a modo loro fanno nel modo di Dio ossia tolgono di mezzo tutta l'arroganza del fare umano tutta l'arroganza di una natura che sembra la comandante di tutta la nostra vita e avvalorano il disegno del padre Gesù che dice padre si è fatta la tua volontà e non la mia afferma la superiorità del padre che ha fatto un disegno da donare all'uomo proprio come la possibilità infinita di un disegno infinito nel quale ogni uomo si possa rivedere per osservare e godere di questa infinita vittoria che esiste in questo infinito disegno possibilistico quindi quel valore cristico che si impone si impone e si conclude solo quando arriva lo spirito santo paraclito o paracleto che dice la verità che libera e libera davvero la legge numero 114 che appare in bibbia o appare nel corano non rivela un Allah o un Dio così apparentemente crudele come saremmo portati a interpretarlo attraverso l'occhio per occhio tutto ricade su chi lo fa per la generosità di Dio che dopo di avere dato l'illusione all'uomo di poter fare lo ha sanato riportandolo al prima che facesse e non gli ha torto la gioia della sua conquista ma qual è la vera conquista poi che si ritrova un uomo quando ha visto farsi e disfarsi tutta la sua opera qual è è la conquista ideale perché la realtà si azzera ma resta quella conquista ideale che oggi un uomo ha quando di fronte al bene mio o al bene tuo idealizza ottimale per me non il bene mio ma il bene tuo questa vittoria ideale contro una realtà di successi reali ecco è quella che infine rimarrà insomma rimane quella elezione ideale che ciascuno ha fatto ed è proprio quella che ha detto Gesù con il suo valore quando nel discorso della montagna ha cercato di far capire all'uomo che la condizione umana che sembra di perdenti in realtà è di vincenti e che bisogna dire un no a tutto questo che sembra essere costrittivo prepotente reale di una realtà spietata l'uomo ha una vera libertà che è quella ideale perché le cose saranno viste fatte e disfatte e quando tutto è tolto di mezzo rimane la vittoria ideale di ognuno e visto che ognuno riuscirà ad avere la sua vittoria ideale sarà questa vittoria ideale che poi sarà assaporata non sarà uguale per ciascuno anche se il risultato è fatto da tutti ma in che modo avremo il paradiso come il concorso di tutta un'orchestra e una serie di cantanti che cantano ognuno nel momento in cui nella storia entrano in atto e cantano o suonano se noi nella nostra elezione abbiamo scelto di essere dentro quell'opera solo un cantante o un suonatore non abbiamo solo quello abbiamo l'orchestrazione totale tanto che c'è veramente un concorso in cui ognuno apporta quello che liberamente ha scelto di apportare e contento lui sono contenti tutti ma tra i singoli apporti c'è chi avrà apportato poco ma se lo ha scelto liberamente e ha voluto quello quello è stato il suo modo singolo di immaginarsi vittorioso e avrà quel valore sarà quel cantante che magari entra in atto ogni tanto sarà quel suonatore che suona ogni tanto anche chi ha deciso di non cantare di non suonare scoprirà l'importanza del suo voler esaltare il silenzio perché guai se non ci fosse questa forza che metta a tacere tutti canterebbero sempre tutti non ci sarebbe musica non ci sarebbe mai la possibilità che un piccolo suono sia sentito solo lui ecco nella orchestrazione di Dio non è possibile che qualcuno per la scelta che ha fatto nuoccia al sistema e tutto è il concorso libero nella creazione del comune paradiso di Dio